Guarda che se vai avanti così, ti risvegli morto, hai capito no? Bravo Adesso stai qua con me, chiamo i miei amici e le prendi Raga dobbiamo fermare questa situazione, lo sappiamo, è il più potente della scuola, è il bullo per eccellenza Si, fa sempre così, si la prende sempre con i più deboli, dobbiamo prendere tutto per agio e fermare Andiamo raga, andiamo Sei tu che la devi finire, basta Lasciatemi stare pure voi, che oggi non ho per voi, andatene via, adesso sto parlando con lui e sistemiamo con lui Adesso tutte ne vado, io non me ne vado Qui, comando io Si, pronto? Va bene, due minuti e arrivo, ciao ciao Adesso me ne vado, ho cose più importanti a cui pensare Se quelli la mi devono insegnare cosa fare Ma c'hai ragione, sono degli sfigati Ma io non capisco la gente, vai a casa a dormire, sfigatello Io vado, dai Oh, bello fra, eh, sei bravo Sei bravo Ci becchiamo Qua cinque minuti mi vado anch'io, oh Ciao, ciao Ciao Rocky Perché lo fai? Perché ho dei problemi in famiglia Ho i miei problemi e mi sfogo sugli altri E non è una giusta soluzione Per me è la migliore Mi picchio gli altri e me ne sto tranquillo Ci sono tante cose in cui tu puoi colmare il tuo sfogo In che cosa, se non picchiare le persone? Alle più semplici Iscriverti a qualche sport Non lo so, lotta libera Calcio Qualsiasi sport Puoi aver ragione Però non lo so E sai qual è il primo passo, Rocky? No È chiedere scusa a Danny Per quello che gli hai fatto Questo è il primo passo È un passo difficile È il primo passo che Ti condurrà a una vita migliore E sono sicuro e sono certo che lui ti perdonerà E il perdono è la cosa più bella Ragazzo Andiamo Andiamo Ciao Ricky Cosa ci fai con Rocco? Ciao Ricky Siete amici adesso? No no Sono venuto a chiedere scusa a Danny Per l'altro giorno E ti ho fatto del male E ti ho fatto del male Non volevo farlo Ero solo Sai ho dei problemi in famiglia Che però non vogliono raccontare Ero solo diretti Ero solo Amici come prima Andiamo a farci una pizza Ciao 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 raga Uè Rocco Tutto bene? Posso stare qua con voi? Sì Meno male E' a pensare che un mese fa Eravamo in conflitto Veramente Che stupido che sono stato Beh l'importante è di sapere di... Sì sì quello sì Ho capito che nella vita Bisogna avere il coraggio Di chiedere scusa Sempre Bravo 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 Dai andiamo facendo